Ben trovati a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 che vi tiene informati su tutte le attività del Consiglio regionale. Nell'ultima settimana, sicuramente molto intensa, è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria 2022-2024 con 24 voti a favore e 14 contrari. Il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione finanziaria 2022-2024 con 24 voti a favore e 14 contrari, chiudendo così la discussione e le votazioni sul pacchetto della manovra finanziaria della regione toscana? Un bilancio che nasce in un contesto ancora di incertezza perché da una parte sappiamo che la Toscana esce come tutto il paese dal periodo dell'emergenza sanitaria, c'è stato un rallentamento dell'economia e quindi si sono verificate minore entrate, ma c'è anche un'incertezza che viene da un quadro normativo non ancora definito a livello nazionale perché non è stata approvata ancora la manovra finanziaria, ma ciò nonostante la regione ha voluto dotarsi di un bilancio per affrontare quelle importanti sfide che l'attendono nel 2022. Da una parte i fondi del PNRR e dall'altra l'apertura del nuovo ciclo di programmazione comunitario 2021-2027. Occorreva garantire la continuità dell'azione amministrativa e con questo bilancio lo facciamo. Un bilancio che indubbiamente risente in alcuni settori di una serie di inevitabili decurtazioni di risorse ma che vuole ancora investire in alcuni settori strategici per l'economia e la società toscana. Da una parte le politiche giovanili e lo sport, dall'altro il tema dei trasporti e del diritto alla mobilità fino ad arrivare all'ambiente. Tutti i settori che assieme alla cultura escono da questa manovra finanziaria con un incremento notevole di risorse. L'auspicio è che con le risorse che arriveranno nel 2022 e le importanti tappe che caratterizzeranno la revisione dei conti anche nella nostra regione si possa dare una risposta efficace in tutti i settori di intervento dell'azione di governo della regione toscana. Nel corso del dibattito sono stati approvati diversi atti collegati, tra questi tre ordini del giorno presentati da Marco Stella. Con il primo si impegna la Giunta a mettere in campo tutte le misure necessarie per realizzare le opere per la sicurezza idraulica nella zona nord della foce del Cecina. Un secondo ordine del giorno chiede alla Giunta che la ASL Toscana Nord-Ovest accolga la richiesta della grandissima parte degli amministratori locali della Lunigiana per la costruzione di una unità operativa complessa con la nomina di un direttore medico di presidio. Infine un terzo ordine del giorno impegna la Giunta affinché l'asfaltatura dell'aeroporto di Marina di Massa sia riconosciuta una priorità regionale e sia inserita fra gli interventi necessari allo sviluppo infrastrutturale della Toscana. Oggi abbiamo fermamente votato contrario e anche sottolineato le cose che non andavano in questo bilancio. Un bilancio dove non c'è sviluppo, un bilancio senza investimenti ma è un bilancio prevalentemente fatto di tagli e di tagli a cosa? Di tagli a quello che è più di prezioso per quanto ci riguarda, la famiglia, la disabilità, la non autosufficienza. Un bilancio che taglia 18 milioni di euro per le cure sulla SLA, un bilancio che taglia 9 milioni di euro per la non autosufficienza, un bilancio che leva addirittura 20 milioni di euro al turismo lasciando al turismo soltanto 7 milioni di euro, un bilancio che toglie 130 milioni di euro agli investimenti e alla competitività del nostro territorio ma è un bilancio che mette invece 24 milioni di euro alle saghene, alle rievocazioni storiche, ai tagli del nastro. Ecco, c'era una volta la legge mancia, questo è il bilancio del taglio del nastro. Siccome noi pensiamo in un momento difficile come questo, in un momento di risorse scarse, noi dobbiamo concentrare le risorse su provvedimenti che hanno a cuore la famiglia, che hanno a cuore la valorizzazione del nostro territorio, lo sviluppo delle nostre imprese, il sostegno alle nostre attività commerciali. In queste voci non c'è niente, questo bilancio è un bilancio che non parla ai distretti industriali, non c'è una politica dei porti, non c'è una politica di valorizzazione del tessuto commerciale. Ecco, è un bilancio che non ha non solo una logica ma è un bilancio senza visioni. I bilanci non sono fatti soltanto di numeri ma sono fatti anche e soprattutto di strategie. Questo è un bilancio privo di strategie per la Toscana e ancora una volta pagarne le spese saranno le famiglie toscane e le imprese toscane. Approvati anche alcuni ordini del giorno presentati dai consiglieri di Fratelli d'Italia, quello del capogruppo Francesco Torselli, emendato su proposta del PD, impegna la Giunta a invitare i comuni a replicare il progetto pilota della città metropolitana di Firenze col quale monitora, in un rione del centro, gli spazi ex commerciali e artigianali per valutarne l'acquisto e poi affittarli a prezzi calmierati per riportare in centro artigianato artistico e tipico con formazione in bottega. È un bilancio nettamente insufficiente, il presidente Gianni lo ha definito work in progress, va bene work in progress ma qua siamo di fronte a un bilancio in cui il venerdì ci viene raccontato che si stanno accantonando 50 milioni di euro per far fronte a eventuali mancati rimborsi sulle spese sanitarie Covid da parte dello Stato e poi il martedì successivo nello stesso fondo che era intoccabile si va ad attingere e si prendono 3-4 milioni per accontentare le richieste del Partito Democratico un po' a destra un po' a manca, c'è un fondo di garanzia sì l'unica cosa che è stata garantita sono le richieste del Partito Democratico. Poi un bilancio fatto di rinvii, tutte le opere strategiche per la nostra regione rinviate agli anni a venire penso una su tutte, il porto di Livorno, il presidente Gianni ci racconta che questo sarà l'anno in cui finalmente sarà realizzata Darsene Europa ma i soldi per Darsene Europa vengono spostati dal 2022 al 2023, il raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Lucca invece che quest'anno e il prossimo anno le piste ciclabili, la manutenzione delle piste ciclabili, ogni giorno la sinistra si riempie la bocca di mobilità sostenibile, di green, di risparmio energetico e poi i soldi per la manutenzione dello sviluppo delle piste ciclabili della Toscana rinviate addirittura al 2024, quindi è un bilancio nettamente insufficiente che lascia sì spazi di discussione, che lascia sì spazi di modifica in corso d'opera ma ad oggi ci sono tanti impegni e pochissimi investimenti concreti e reali iscritti nel rosso bianco. Approvato anche l'ordine del giorno, primo firmatario Diego Petrucci che ha accolto alcuni emendamenti del PD per impegnare la Giunta a trovare le risorse necessarie ad aumentare il numero dei medici e degli infermieri nelle strutture del sistema sanitario regionale. Sì, noi chiediamo che con la prima variazione di febbraio-marzo che ci sarà nei prossimi mesi quando verrà fatto il bilancio vero e proprio, perché questo qui è una cosa raffazzonata, è una bozza di bilancio che la Giunta sta ancora finendo di fare in questi momenti, poi il bilancio vero e proprio ci sarà a febbraio-marzo con la prima variazione utile. Noi chiediamo di investire maggiori soldi, maggiori stanziamenti in medici e infermieri, ovunque andiamo in generale, specialmente in questo periodo drammatico di pandemia. ci viene chiesto, viene denunciato che mancano medici e infermieri. C'è sicuramente un problema nazionale, numero chiuso a medicina, impossibilità di accedere alle professioni mediche e infermieristiche, ma c'è anche un problema regionale. Per esempio, dovunque si lamenta la carenza di infermieri, Estar nei mesi scorsi ha fatto un concorso per infermieri, c'è una graduatoria Estar con 2.206 infermieri, di questi ne sono stati assunti meno di 200, meno del 10%. Significa che se la Regione Toscana mettesse i soldi su questa partita, potremmo avere il primo di gennaio 2.000 infermieri in più nel sistema sanitario regionale, lo stesso vale per i medici. Sicuramente un problema di numero chiuso a medicina, sicuramente non è la criticità più grave in questo momento. perché? Perché per poter entrare a lavorare come medici, per poter entrare nel circuito del servizio sanitario regionale, in quello privato, nel territorio, negli ospedali, nelle case di cura, non basta essere medici, bisogna fare la specializzazione. Ebbene, non tutti le ragazze e ragazzi che si laureano in medicina hanno la possibilità di accedere alle specializzazioni, poiché le borse per le specializzazioni sono minore dei laureati in medicina che ci sono ogni anno. Anche qui vi do dei numeri, a fronte nel 2021 di 18.847 borse di studio in specializzazione, si sono laureati 19.449 medici, si sono candidati 19.449 a fronte di 18.847. Significa che c'è un gap di 7-800 persone che sono medici, che sono laureati, ma che non possono fare la specializzazione e quindi entrare nel servizio sanitario regionale. Quindi mettendo più soldi sia per gli infermieri sia per i medici, cosa che deve fare la regione toscana a febbraio, a marzo con la prima variazione, è possibile avere una risposta più efficace, più immediata, più importante ai bisogni dei toscani. Un altro ordine del giorno, presentato da Enrico Sostegni, impegna la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo perché venga accolta la richiesta delle regioni finalizzata all'ottenimento dei fondi necessari per coprire le spese straordinarie sostenute per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Il bilancio è costruito proprio per trovare le risorse per la sanità, per garantire il pareggio del bilancio della sanità. Ovviamente il punto nodale di questo bilancio è proprio il fatto che gli sforzi che la Giunta ha dovuto fare nella chiusura del bilancio derivano dal fatto che le spese Covid per la nostra, così come per le altre regioni d'Italia, non sono state coperte integralmente dal livello statale, che è una cosa che dovremmo provare a recuperare. Le richieste delle regioni sono forti in questo senso. È evidente che con il bilancio che prima serviva per sostenere il servizio sanitario pre-Covid non possiamo pagare anche le spese Covid e questo è il nucleo fondamentale. Nonostante ciò, con gli sforzi che sono stati fatti, la chiusura del bilancio c'è e quindi ci dovrebbe essere, al netto poi di quelle che sono le effettive ricadute delle promesse del livello statale, ci dovrebbe essere il pareggio ovviamente delle spese in sanità. Il gruppo d'Italia Viva ha votato a favore degli atti economici e ne ha sostenuto convintamente l'impostazione. Intanto la discussione sul bilancio è iniziata, è iniziata bene perché non c'è nessun aumento di tasse e questo è molto positivo. Per noi è una battaglia vinta, quella di Italia Viva che sta in grado di dire di no all'aumento dell'addizionale IRPEF e dire di no all'aumento del bollo sulle auto. Grazie al recupero dell'evasione, grazie allo storno di fondo stiamo discutendo oggi un bilancio in previsione. Allo stesso tempo stiamo lavorando in queste ore molto concitate per fare in modo che arrivino emendamenti che aumentano le risorse sulla sociale, pensiamo ai temi della disabilità, aumentano le risorse sulla cultura, bene le risorse sullo sport, nello stesso tempo una migliore allocazione delle risorse sugli impianti sciistici delle montagne toscane e nel contempo emendamenti che consentano di avere maggiori risorse per le imprese e a favore ovviamente dei comuni se pensiamo anche alla progettazione che possono fare i piccoli comuni e i consorsi di bonifica per quanto riguarda le risorse da intercettare con il PNRR. Quindi do in questo momento un giudizio positivo di una discussione che ovviamente durerà molto ma in queste ore la finanziaria toscana a mio avviso convince il partito di Italia Viva. Per la consigliera Elisa Tozzi della Lega invece sono tante le criticità. Sì, noi naturalmente esprimiamo un fermo voto contrario tanto nel metodo quanto nel merito. Un metodo che ha visto sostanzialmente tagliate fuori le opposizioni dalla garanzia di un qualsiasi approfondimento istruttorio, in particolare per quanto riguarda il famoso maxi emendamento. Di fatto siamo di fronte ad una soluzione che è di compromesso per tutto quello che era emerso, diciamo le difficoltà della maggioranza di questi giorni a trovare la quadra rispetto a un quadro finanziario che sì è vero ha delle difficoltà, difficoltà ben note, i fondi europei che ancora devono arrivare, minori entrate per 160 milioni, però di certo ci aspettavamo forse qualcosa in più, quantomeno sotto il profilo della programmazione. In realtà ci ritroviamo di fronte a una serie di provvedimenti che appunto nel tentativo di tenere insieme i vari appetiti territoriali ci propongono anche di fronte appunto a questo famoso maxi emendamento che di fatto si risolve in uno spostamento non tanto significativo nelle cifre, ma significativo perché si va ad attingere a quel fondo di riserva che di fatto è il nostro cuscinetto a garanzia di quella copertura del disavanzo sanitario che appunto è la vera partita che poi dovremo giocarci nei prossimi mesi. Quindi andava adottata molta cautela, in realtà questa cautela c'è stata fino a un certo punto finché appunto gli appetiti dei territori non si sono manifestati. Ecco per noi questo modo di procedere con marchette territoriali non è assolutamente condivisibile e in tutto questo, in queste sforbiciate, in questo grande pasticcio purtroppo rischiavano di rimetterci i più deboli. Si è cercato di correre a ripari in corsa mettendo appunto delle risorse ma diciamo che non c'è anche in questo caso la vera consapevolezza a nostro avviso che sul fronte delle politiche sociali molto di più debba essere fatto di fronte a un taglio molto pesante di 47 milioni. Speriamo che nelle prossime variazioni di bilancio questa giunta si faccia carico finalmente di portarci un disegno organico ed una propria visione effettiva della Toscana. Una metafora calcistica per spiegare il bilancio votato in Consiglio regionale è questa l'iniziativa portata avanti dal centrodestra contro la legge del bilancio. Tutti i consiglieri regionali del centrodestra hanno esposto dei cartelli con temi che riassumono le maggiori criticità della manovra finanziaria. Questa iniziativa è un'iniziativa simbolica che come centrodestra porteremo in giro per tutta la Toscana per spiegare con una metafora calcistica il bilancio che abbiamo votato oggi in Consiglio regionale. Un bilancio fatto di tanti rinvii, di opere che saranno rinviate agli anni a venire, di qualche rigore a portavosa come i soldi regalati a destra e a manca per finanziare opere delle quali la Toscana aveva poco o nulla bisogno e di qualche autogol, uno su tutti quello sulla disabilità di cui abbiamo tutti parlato in questi giorni. La Toscana Parlamento è tutto, l'appuntamento con gli aggiornamenti dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.